Musica Chi è? Jasmine vai a comprare il gelato che abbiamo ospiti Ai ai ai, perché non me l'hai detto che avevamo ospiti? Mi preparavo almeno bene Dai, muoviti, almeno poi hai il tempo di prepararti Perché non ci vai te e il cane, così almeno io mi preparo? Perché sono vecchio, ho da fare, vai Aspetta un attimo, torna qui Che c'è? Prendilo vero questa volta, perché non voglio che ritapti come la scorsa volta col pane, mi raccomando No, vai, cosa aspetti ancora? Jasmine Ciao Scusa, ti sei fatta i capelli di Ola? Sì Oddio Ok, ti stanno bene, devo dire che ti stanno bene Grazie Te com'è andata a scuola? Bene Che hai nel sacchetto? Due gelati, pistacchio, fragole e limone Anche io ho comprato il gelato E anche... E anche... Gianduia Io ho preso invece la fragole, guarda, ho comprato anche i bicchierini in modo da... I contenitori da mettercelo Ehm... Ma te ce l'hai col con... Facciamo uno scambio, dai Va bene Grazie Sei la migliore Ciao Ciao Sì, mia mamma sarà contenta Ciao Ciao mamma Ciao Hai preso il gelato? Bisogna fare seriamente, perché io è la mia prima volta che ho compito una cosa, perfettamente Certamente come me, cioè non ho preso da te, naturalmente ho preso dal babbo di bellezza Oddio Adesso io ho preso soltanto un briciolo di carattere e niente altro Ehi, ciao! No, no, come non ho detto un bel niente Allora, qua c'è lo scontrino Guarda Qui c'è scritto banane, sneakers, teneroni, bonti E quale gelato hai preso però? Allora, ho preso il gelato alla fragola, limoneggia, buia, pistacchio, quelli lì non contare Perché poi ho fatto lo scambio, perciò Va bene Però il gelato l'ho preso Va bene Gira Che stai facendo? Eh, sto cercando di lavare dalla busta al gelato, mamma E rigirati Voilà Wow, è gigantesco, vero? Che cos'è questa roba, Jasmine? Che cos'è? È gelato La prendi in giro? Ma non è un buon russale Retiro un campo sul gelato Ma perché non gli piace questo gelato? È un gelato Alla fragola, solo ha un cuscino Che cosa cambia? Comunque è sempre buono per me Pane, gelato E se volete prendere anche voi questo gelato Potete andarlo a prendere giù il link in descrizione Perciò ragazzi, iscrivetevi al canale Lasciate dei pollicioni In su E ciao Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao